Bene, abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato anche di giovani, intanto vi ricordo che c'è un numero dedicato per i vostri messaggi, foto, whatsapp 331 737 8033. In attesa di collegarci con il nostro prossimo ospite faccio un appunto, a volte capita che il correttore del programma di Word cambi il cognome, Marco Torinello, l'ho chiamato Toriello per tutto il tempo ed è stato così gentile come dire a non riprendermi, a non correggermi. Allora, il blog Cine Scatenato. Cambiamo argomento e andiamo da un Marco ad un altro perché siamo collegati con Marco Pappalardo, giornalista, autore del libro Io e Carlo. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per essere con noi quest'oggi, soprattutto per parlarci di una figura straordinaria di santità, come è stato definito una figura di santità giovane, di santità feriale. Il tuo libro si intitola Io e Carlo, edito dalle Paoline, dedicato appunto al beato Carlo Acutis che sarà santo. È un libro che in qualche modo, come leggiamo nelle prime battute, hai cercato di raccontare. È un Carlo Acutis però, ecco, hai deciso di non metterlo nella nicchia dei santi, quindi di farlo diventare, come dire, un giovane tra i giovani che poi è quello che è stato Carlo in vita. Da che cosa hai trovato l'ispirazione? Intanto dall'ascolto di tanti adolescenti, di tanti ragazzi della sua età con cui quotidianamente operano nel campo della scuola, dell'oratorio, del volontariato e quindi dalla quotidianità. Tant'è vero che l'io del titolo, naturalmente non sono io autore, ma è un personaggio, una ragazza, Esther, che in qualche modo lo incontra attraverso i social. E qui anche per specificare un'altra delle caratteristiche del beato Carlo Acutis, che era particolarmente vicino, attento e capace, formato su questo ambito dell'informatica e del web. Per cui tutto questo mi ha portato a farne una lettura attualizzata ulteriormente, quasi quotidiana, feriale, perché questo adolescente che allora camminava per le strade di Milano, di Assisi, della nostra Italia, nei viaggi di cui era appassionato, potesse continuare a camminare ancora sulle nostre strade. Tu Marco sei collabori, sei un giornalista, scrivi per l'Osservatore Romano, per Avvenire per Credere, sei a contatto con tanti giovani e sei anche impegnato in diversi ambiti dell'educazione digitale, della catechesi, del volontariato e della comunicazione. Come la figura di Carlo Acutis, in qualche modo, può aiutare i giovani ad avere un rapporto, oserei anche dire sano, con il mondo digitale? Innanzitutto si tratta di essere educati su questo tema, quindi sotto questo profilo sicuramente le varie agenzie educative, la famiglia, la scuola, gli oratori, le parrocchie, le realtà ecclesiali. Il mondo della comunicazione stesso deve dare strumenti per formare sia i giovani, i ragazzi, ma anche noi adulti ne abbiamo particolarmente bisogno pure, perché non siamo nativi digitali, soprattutto per poter stare accanto a questi ragazzi e questi ragazzi del nostro tempo con competenza e consapevolezza. Carlo aveva un enorme equilibrio, testimoniato anche da quanti sono stati vicini sotto questo ambito, oltre che era anche geniale, hanno testimoniato più di uno che avesse, soprattutto dal punto di vista della programmazione, doti che non avevano altri naturalmente alla sua età e anche più grandi di lui. E poi la possibilità anche di coinvolgere queste ragazze e ragazze in progetti in cui si utilizzano i web e i social, ma anche a fine di bene, per creare qualcosa di bello, di utile, di significativo, perché in realtà si tratta semplicemente di non lasciarsi prendere dal mondo del web e quindi di gestire, ma di imparare a gestirlo e a trasformarlo in qualche cosa di buono. Il bello di questo libro è che abbiamo perso la connessione, ma adesso la ripristiniamo con Marco Pappalardo, che ricordo ha scritto questo libro dedicato al Beato Carlo Acutis, intitolato proprio Io e Carlo. Leggo qualche passaggio dell'introduzione, come scrive appunto Marco Pappalardo, come presentarvi Carlo Acutis senza rischiare di trasformarlo in un coetaneo irraggiungibile o in un santino, come narrare la sua vita, semplice ma intensa, evitando di farlo con lo sguardo ammirato di un adulto, dunque con il pericolo di dare già a voi, ragazzi e ragazze, tutte le risposte, pur pensandoci un bel po', tuttavia non trovavo la strada giusta e stavo per rinunciare. Poi mentre rileggevo alcune parti di ottime biografie di Carlo, a un certo punto dinanzi alla sua foto ho chiesto ingenuamente tu in che modo avresti fatto? E lì è arrivato l'aiuto. Torniamo a collegarci con Marco, ti abbiamo perso per qualche istante. e non sono da perdere ogni due capitoli le impostazioni, quelle predefinite e quelle da personalizzare. In qualche modo lasci ai ragazzi, come dire, carta bianca per poter riflettere su quello che hanno letto e stare un po' da soli con i propri pensieri, è così? Sì, il libro capitolo per capitolo è in qualche modo interattivo, seppur sul cartaceo, e vuole aiutare i ragazzi, ma anche chi li accompagna nella lettura, penso a docenti, a catechisti, a genitori, fermarsi un attimo e confrontare se stessi e la vita di Carlo, vedere a che punto sono, capire in effetti quali sono i punti di incontro, anche di distanza, quali sono le debolezze, quali sono le risorse, soprattutto anche a stimolare l'inventiva, la creazione, la fantasia, e a comprendere cosa c'entra l'esperienza di questo ragazzo, certamente contemporaneo, moderno, con la loro vita, perché il limite più grosso, a volte ci distanza le figure di santità, è quello di vederli troppo in alto, invece camminato per la nostra estate Carlo, noi possiamo continuare a camminare sui suoi passi. Molto bello anche la quarta di copertina, che pregherei alla regia di inquadrare, magari ecco mi metto qui a favore di telecamera, Acutis è come usi l'hashtag, e poi Autostrada, Cielo, Umiltà, Teenager, Internet e Santità, sembrano tutte parole scollegate tra di loro, ma se si conosce un po' la figura di Carlo Acutis, si scopre che non è così. Eh sì, questo Acrostico in qualche modo sintetizza, attraverso delle parole chiave, l'esperienza del cammino, il percorso del beato Carlo Acutis, e entrando all'interno del libro, nella sua storia, le scopriamo ad una ad una, come punti di riferimento di questo ragazzo, e soprattutto ciò che lui anche ha trasmesso a coloro che lo hanno conosciuto in vita, ma a coloro che continuano a conoscerlo attraverso il racconto della sua vita, con questo libro e con tanti altri, una storia ordinaria ma straordinaria, una storia che a un certo punto diventa una brutta storia, la morte di un ragazzo giovanissimo, improvvisamente non è certo bella, ma che si trasforma in qualche cosa di bellissimo, ma poi è un momento in cui comincia a girare il mondo e comincia ad essere testimoniata con uno sguardo diverso, che non è più quello della morte, ma è quello della speranza e della testimonianza del Vangelo. Io vorrei ricordare che tu con Le Paoline hai pubblicato anche un libro dedicato a padre Pino Puglisi, Supereroe rompiscatole, nel 2022, e poi non chiamatelo ragazzino, dedicato al giudice Livatino, e poi testimoniare il Vangelo con la vostra vita, andate in rete nel 2021. Sicuramente Marco torneremo anche a collegarci con te, perché sono tre libri dei quali sicuramente torneremo a parlare, anche perché restano molto molto attuali, quindi speriamo che tu possa essere disponibile prossimamente per parlare appunto degli altri tuoi lavori. Certo, grazie, grazie. Grazie a te, allora ricordiamo di nuovo il titolo del tuo libro, Io e Carlo, edito dalle Paoline Marco Pappalardo. Grazie di cuore per essere stato con noi.